ti faccio provare prima questa che è quella in teoria salta un po' di più però è quella più tecnica lo scatto a vuoto ci puoi provare? si si prego ed è abbastanza leggero perché non ha la sicura automatica del professore che figata non so dove sono andati però che figata è quella attacca proprio dalle forze di polizia 5 minuti due morti meglio questa si grazie grazie